Allora, quando stare in viaggio, non vi è capitato mai che dentro gli armadi ci sono le casse forti? Intanto, un like per la maglietta, questa maglietta è Marco Pesce, attenzione. Allora, come fare a memorizzare la cassaforte, cioè a mettere il codice per bloccarla? Semplicissimo, guardate. Allora, mettete dentro i vostri tesori, un ballingotto d'oro, un diamante, un brillante, perché chiaramente quando uno va in vacanza si porta il brillante 100.000 euro, poi spingete, allora, chiudete, C, prima di tutto, cancellare tutto, codice a 6 cifre, 3, 4, 5, 6, e si blocca. Chiudi, eccola qua, e adesso voi potete mettere qualsiasi cosa e non si apre. Se vi ricordate il codice, 1, 2, aspettate, mettete, cancellate tutto. Aspettate, eh. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e si apre, mia moglie dice che ho sbagliato. Cosa ho sbagliato? Tutto. Perché? Ecco, l'ho recuperato il brillante, guarda. Eh, scusa, eh. E adesso con quel brillante noi ci andiamo a mangiare tante cose, tante. Comunque ve lo ridico, chiudi, non c'è il brillante dentro. 1, 2, 3, no, non funziona, vedete, così non funziona perché tocca, spingila, C. Mamma mia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac, tac. Semplicissimo, eh. E poi dici, vabbè, ma prendi in poco il brillante, ma il brillante non c'è dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac, e il brillante non c'è. E beh, allora, qual è lo scopo di questo video? Dare il like per la maglietta che ho disegnato io. Cioè, che vero che fa, ma che ne sa. Dare il like per la maglietta che ho disegnato io.